come usciamo l'ugare? facciamo l'ugare? Triesti Triesti siamo tutti qui in Triesti divisa con la Slovenia e anche Austria una ora di Slovenia e una ora di Austria Solemari questo è sta parlando questo per me? per me? per me? molto lindo molto bello hermoso, hermoso, hermoso per me grazie Laura grazie 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 buongiorno grazie 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 hai ahn c'è un posto là? c'è un posto là? c'è un posto c'è un posto là? c'è un posto c'è un giorno allora aspetta tutti quelli che adesso c'è un posto? andale, andale andale, andale andale, andale parare ciao trieste olha que momento wow Sì 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 deve essere grua grua, è grua 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 gru La luce nel final del tourno Adesso 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 Acho que para quê? Por aqui Acho que era por baixo Isso aqui é 4,11 divido Isso aqui é 4,11 divido Você está vendo aquele moro ali Do lado de lá, Eslovênia Já é uma cidade chamada Coppel è il porto dei Susiei allora siamo in attenzione qui, la capitale di Trieste la più bella città del nord della Italia più grande sì ci passiamo qua oltre, è via bravito ci passiamo noi stiamo filmando contro il sole non ci sembrava solo ci sembra il sole l'abbiamo fatto da ciao 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 ciao